Ragazzi Salta l'uomo Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di bar Esatto, i due modelli di gioco sono alla pari Ragazzi Williams Buono l'appoggio Ecco il tiro, grande parata Palla che finisce in corner Colpisce di testa E la mette fuori Che gol sbagliato Williams Fuori Sarà fallo laterale Cerca i compagni Niente da fare Buon intervento difensivo Ragazzi Williams Passaggio perfetto A metri a disposizione Occhio al tiro Occhio alla deviazione C'è il palo Si è fermato Si tocca il muscolo Ovviamente insomma Vedremo di che cosa si tratta Sembra davvero esausto Va via bene al difensore Ha spazio per tirare Non trova la porta Grande occasione Avrebbero dovuto prendere il largo Qui E la mancata di pochissimo Sarebbe stata Molto importante Per loro Pallone Tranquillamente Fra le braccia del portiere Ci saranno tre minuti di recupero Ragazzi C'è grande pressione Su di lui Pericolo Ecco il tiro Tiro che finisce Basta così Arriva il fischio dell'Archi Hanno vinto E passano dunque Al turno successivo Stanno veramente giocando bene E i risultati Li premiano E i risultati Feb Puduto La Accusate Puduto Salitad E Salitad Salitad El